Eligio Paolini, che piazza è Siena per lei e che cosa lascerà questo congresso? Sì, io credo che la scelta sia, come ha detto giustamente anche il Presidente della Sottosezione di Siena, sia particolarmente felice anche in ragione di recenti eventi che forse, anzi sicuramente tutti conosciamo e che permettono tutto sommato di avere un riscontro diretto da parte dell'Associazione Nazionale dei Magistrati sul territorio sienese in un momento di particolare difficoltà per interventi non proprio appropriati, anzi interventi che hanno attaccato la credibilità e la dignità dei magistrati locali, che oggettivamente replica quella nazionale. Io nel mio intervento sono stato molto breve su questo perché ciascuno di noi, ciascuno dei presenti è perfettamente a conoscenza nel proprio territorio delle difficoltà che si trova a dover affrontare sistematicamente ogni giorno nel corso della propria attività lavorativa. Ecco dottor Pollini, un clima unitario, positivo, costruttivo quello che emerge da questo congresso e che fa seguito alla relazione di Albamonte ieri. Assolutamente sì, io credo che non si debba mai perdere un clima unitario, dobbiamo necessariamente, ho avuto modo anche di dirlo prima, valorizzare ciò che ci unisce e abbandonare ciò che ci divide, sempre che quello che ci divida non sia particolarmente importante e non credo che sia importante perché tutti quanti, coloro che partecipano ad un'associazione nazionale magistrati hanno chiaramente in mente l'obiettivo che è quello della tutela, della dignità e della professionalità e della credibilità di ogni singolo magistrato sul territorio nazionale. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!